E ancora, giriamo un po' assieme le piazze di Sardegna un pochettino di meno per quanto mi riguarda, però lui è diventato un grande emolicista e un grande organitista, ma è soprattutto conosciuto in tutta la Sardegna come cantante del canto tradizionale a chitarra. Un applauso per Giovanni Magrini. E c'è il microfono ovviamente al capogruppo e vi saluta. Chiedo ringraziare il comitato Cano Puro che l'ho trazzogliata questa esta e un applauso al comitato, grazie. La Sardegna donna che non ha dato la grazia per essere Cano Puro. Io di solito parlo in limba perché le nostre piazze, noi facciamo solo piazze, vi dico la verità, mi dispiace perché magari non tutti i turisti capiscono. Però adesso parlo in canale. I nostri balli che l'hanno presentato, il primo era la stella a passo di Ballitos Uniscoleso. Oggi siamo un po' in promiscuo. Diciamo che abbiamo mezzo gruppo a forche dei grandi e mezzo del mini a forche. Abbiamo dei ragazzi che hanno avuto dei problemi familiari, quindi stasera cercheremo di dare il massimo nonostante le nostre difficoltà. Il secondo ballo che vi presentiamo è su Baroniesu, che è il ballo tipico della nostra zona, la Baroniesu. Spero che le vostre vacanze ne siano il vostro gradimento. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.